musica Eccoci raga, nuova giornata di pesca, siamo sul Po Ogni mio video inizia col Davide che fa cose Sfrutta Vai vai, carica, carica Adesso abbiamo trovato due ragazzi con la barca e il carrello che si offrono volontari di aiutarci a portare la nostra barca sullo spot Stasera, notte di Capodanno, pescheremo i siluri Ho scaricato tutta la roba, adesso Davide è andato con quei due ragazzi a caricare la barca Raga, come vedete la barca in acqua Adesso c'è una canna a feeder perché il temerario di Davide là vuole provare a pescare i barbi Secondo me fa un cappotto della madonna Cosa dici? Cappotto? Comunque adesso siamo in pausa pranzo Con due birroze, patatine E qua abbiamo una chicca perché non si riesce a bullire la pasta ed è dentro al baule Vediamo se sta bollendo Ci vuole ancora un po' Io vi ho detto che era cappotto, invece guardalo qua Secondo me è un aspio E' un bene se ci sono i barbi eh, vuol dire che il siluri gira stanotte Eccolo lì Eccolo lì Cosa dici? Soddisfatto della cattura? Posso andare a casa Cosa Com'è Chef? Pronto? Pronto, è pronto Fai vedere qua la pietanza di oggi Pasta al pomodoro Buon appetito eh? Buon appetito Sul fiume Dopo pranzo stiamo andando a cercare delle pietre Nello spiegione C'è il Davide là dietro Seduto Fermo, ho trovato il mattone Missione è riuscita Abbiamo trovato tutti i mattoni Adesso si preparano le pietre Per poi andare a calare E' arrivato il terzo membro del team della pescata di oggi Sto andando a recuperarlo Salve avvocato Buongiorno amici Comunque c'è un posto di Venera Eh almeno Finalmente Ci siamo Stiamo andando A vedere Primo giro in fiume Caleremo Una boa Sotto al primo pilone Che manco si vede Perché c'è la nebbia E poi le altre vediamo Iniziamo a farci un giro Vado Corremo 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 Qua è ferma Piano vai piano Qua fa giro d'acqua 3, 6 Basta qua Qua fa buco 6, 7, 8 Ah qua devi pescare sullo scalino lì Trova di qua 7 Qua c'è lo scalino già Qua secondo me Mi sto morta qua mettiamo la boa Adesso arrivo in giro Si perchè qua sono 4 metri Lì era Ok Ok Avast Vai 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 Qua lì Si Si Ferma Allora Dobbiamo capire dove si cala dove calare quella e poi mettiamo l'altra boa Ok Ok Vado prima con la boa con questa e poi con la ruota Vai lascio Ok vai Vai verso la boa Ok Ok Per la destra giro per la destra Perfetto Vai Vai vieni Vai Vai Se mangi in quella sarà divertente andare a sbrogliare la boa In pratica quello che ho fatto qui è stato utilizzare una boa come contro break per far uscire il filo dalla linea di corrente per evitare che si sporcasse durante la notte Solo che appunto facendo passare la lenza madre all'interno del moschettone se il siluro avesse mangiato sarei dovuto andare alla boa liberare il moschettone e poi combattere il pesce Vi consiglio se avete bisogno di fare una cosa simile di utilizzare uno spezzone di nylon come se fosse una normale break line La prima canna è calata Adesso Davide sta mettendo i segnalatori Il primo segnalatore Ormai è buio Ma è una volta che riusciamo ad arrivare a pesca presto Che in realtà è da stamattina che siamo qua Buona No no qua è troppo devi metterli sul filo della corrente I pesci sicuri non stanno qua in corrente Qua la devi mettere vedi Qua Eccolo lì C'è un puntino Sul bucone Proprio qua Caliamo qui Caliamo qua Caliamo qua Caliamo qua Caliamo qua Caliamo qua Ehi Che c'è? C'è? Stiamo per calare un attimo Ma non la mettiamo qua Ma non la mettiamo qua Non ci piace la tua idea Ci fai schifo Buona Buona Buttala qui Qua c'è un po' di vallamenti Sembra un bel posto Aspetta ne? Ok Io ci sono Sì 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 siamo perfetti Sulla linea del filo dell'acqua One eternity later Raga stiamo andando a calare l'ultima canna E questa è la situazione Con la nebbia non si vede assolutamente niente Poi dai Poi dai Poi dai Porca Porca troia ragazzi A few moments later Poi stai con pizzi Non c'è? E' vero che non c'è? È grosso? Si c'è Ma lo tatu E' che non avevi ancora messo il segnalatore Si incredibile L'unica che Ma ci ho pensato prima Meno male che ero lì Nove metri eh Eh questo si eh E' che con la nebbia cazzo non puoi andargli dietro Speriamo che riesci a tirarlo vicino No no un siluro un siluro Vabbè vorrei dire Nel buco era questa? Si No non c'era Ma è sicuro che tirano o non tirano? Io quando l'ho ferrato l'ho sentito Ah eccolo lì E' un bel pesce bel pesce bel pesce bel pesce Testa che ha E' un testone eh Bello Ma non tu cosa hai recognized? come concludere l'anno in bellezza dai quanti questo è 190 ve lo dico io che bocca che c'ho lo spingo un po' proviamo a tirare allora raga riassunto perché in quest'ultima fase della pescata non si è capito bene cosa è successo in pratica io e davide nello spezzone che ho fatto prima dove eravamo in navigazione ci siamo persi perché con la nebbia non si capiva niente siamo andati giù tipo un chilometro di fiume nel nulla 15-20 minuti 15 minuti per tornare abbiamo grattato anche un po' l'elica che per me siamo abituati e ci siamo aiutati un po' con google maps da una parte con due telefoni e dall'altra con la bussola del telefono per riuscire a tornare poi c'era qua nico arriva che ci ha fatto luce e siamo riusciti a tornare e questa l'abbiamo scampata mentre eravamo qua sono andato tipo a vedere il fuoco come era messo ma tempo di tornare dove abbiamo le canne breccate qua dietro adesso non so se si vedono comunque abbiamo le canne qua tempo di tornare vedo che la canna di nico che ancora non aveva il segnalatore si stava piegando piano piano fino a quando poi ha sbreccato infatti gli faccio oh ma guarda che c'è ho ferrato l'ho sentito duro gli passo la canna e lui fa no no ma sei sicuro la canna è rimasta dritta e non succedeva niente perché era piccolo perché era piccolo poi una certa si è fatto un verso tipo allora lì abbiamo capito che c'era niente e sono solo sono solo le sette di sera 18 e 47 quindi abbiamo ancora tutta la notte davanti speriamo che non sia l'unico pesce questo qua era troppo piccolo questo era piccolo domani mattina lo mostreremo meglio scusate raga se guardavo in alto ma perché ho la luce in alto e gli obiettivi non li vedo comunque vabbè diciamo la verità il ragazzo è emozionato perché ha fatto il record oggi ma in realtà in realtà l'ha preso sto inculato qua glielo ho ferrato io è il pesce più grosso che ha visto quindi 31 dicembre dato da ricordare però non è ancora capodanno è l'ultimo giorno è l'ultimo giorno quindi stanotte allo scadere facciamo un altro non è il pesce dell'anno 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 nuovo è ancora l'anno vecchio quindi dopo la guerra il meritato riposo intanto lì abbiamo quella canna che ha vinto il pesce è diventato un lampadario l'abbiamo trasformato in un lampadario pescatori 2.0 aperitivo fai come quello là da Dubai esatto nurs nurset raga ormai sono le 23.50 quasi ora noi siamo qua in attesa dell'ora per iniziare il nuovo anno con stile raga è quasi ora iniziamo a stappare il vino si sentono già i fuochi in lontananza 5 4 3 2 1 auguri 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 non prendiamo più niente raga è finita la pesca mi sono ritirato in tenda gli altri sono ancora fuori vicino al fuoco ma io mi sa che inizia a farmi un pisolino attendiamo il big nella notte vediamo se esce qualche altro pesce buongiorno siamo svegliati in tutta la notte non c'è più stata nessuna mangiata però beh alla fine ieri il peccone è uscito quindi va bene così abbiamo fatto due versi a mezzanotte quindi adesso tè poi poi mi sa che tra un po' andiamo però prima foto di rito di rito raga è giunto il momento di tirar fuori il mostro dagli abissi ecco la cattura di ieri sera 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 dì vendo ecco la cattura di ieri sera notte la donna si è pesa, vai chiediamola tu non abbiamo un secchio per pulirlo dobbiamo venire qui su se non scivoli panciolone ora ragazzi lo misureremo, vai dovide? sei giusto lì? 182 183 ecco, bello mio telefono mi ha fatto pescione o è piccolo? bel pescione, perché altro è grasso questo è veramente panzone non è lunghissimo ma pesa 1,80m più o meno crediamo che sia sui 50kg eh sì bel pescione anche perché è bello pesante fra un po' lo liberiamo sta andando e via ragazzi ci siamo già insabbiati vediamo se lui riuscirà ad uscire in colume è che è freddo dobbiamo accendere un po' prima guarda quanto fumo vai che la panda va dai dai che la panda va rip la trazione posteriore la trazione posteriore ha trasformato la panda nella trazione posteriore mamma mia eh ne so eh ne so ne so questo è stato il tocco di classe boh raga per oggi dei versi ne abbiamo fatti primo giorno dell'anno è iniziato con stile col botto pescione per fortuna questa volta non abbiamo fatto cappotto e nulla spero che questo video vi sia piaciuto come al solito vi chiedo di lasciare mi piace iscrivervi al canale se volete hai due canali anche lui canale youtube quindi presto uscirà il suo video se volete seguirmi su instagram il mio nome è andrewolpfishing thoraxfishing vai vai marchetta tutti novi c'era 93 segnalatori aspetta che non si è capito novi c'era 93 the blonde angler e se volete seguite la pagina ufficiale sonic italy a posto bella raga ciao ciao